Buongiorno a tutti, appunto io adesso sono Michele D'Amico, adesso sono all'Università di Milano, ex Dipartimento di Agraria, di SA, e prima invece lavoravo per l'Università di Torino. Qui ci sono tutte le altre persone che hanno partecipato al progetto, appunto qualcuno dell'Università di Torino più che altro nel coordinamento alla base, poi il campionamento tenesemente l'ho fatto io con dei ragazzi di Edolo dell'Università della Montagna, come Pietro Pasini che ha fatto la tesi, Luca Breno, lui invece si divertiva a fare profili pedologici, quindi è venuto anche lui a campionare un po'. Questi sono i siti che abbiamo analizzato, tranne i siti di Cicogna, gli altri fanno parte della rete, dei siti di monitoraggio della biodiversità. In prossimità appunto di questi punti fissi sono stati, abbiamo eseguito dei profili pedologici per vedere appunto i caratteri dei suoli. Ogni volta quindi scavavamo, per profondità variabili, fino magari a 80 cm, 1 m, 1,20 m, 1,30 m, per ogni buco si cerca di fare una faccia pulita, lo dico per chi non ha mai visto una cosa del genere, su questa faccia pulita si cerca poi di riconoscere i vari orizzonti, i vari strati diversi, ogni colore che si vede vuol dire qualche cosa dal punto di vista chimico e della fertilità. E così abbiamo descritto tutti i vari parametri. Il parco della Val Grande presenta una variabilità di substrati molto elevata, come è già stato detto prima. In genere i suoli chiaramente si formano dall'alterazione della roccia sottostante o che è arrivata da processi di trasporto. Quindi rocce così diverse che vanno dal mantello profondo, dal mantello quindi oppure dalla costa profonda oppure dalla costa più superficiale, dovrebbero dare origine a suoli completamente diversi, come succede in molte zone delle Alpi. Poi vedremo che invece in Val Grande non è tanto così. Un altro processo importante è il tè, un altro processo importante è la glaciazione. Alcune zone, come è già stato fatto vedere da Irene Bollati prima, sono rimaste fuori dai grandi ghiacciai. Quindi anche in questo caso ci saranno suoli più antichi e suoli più giovani. Suoli più giovani dove è passato il ghiacciaio, quindi avranno massimo 20.000 anni. Dove non c'è stato il ghiacciaio, a volte invece si possono trovare suoli che si sono sviluppati per tempi molto maggiori. Primo esempio, questi sono suoli piuttosto tipici della zona. Nei pressi di Cicogna questi suoli sono più sviluppati che altrove. Questo perché appunto è una zona che è su un terrazzo fluvio-glaciale, però non so se risale l'ultima glaciazione, qui i suoli sono estremamente più sviluppati che da tutte le altre parti. Si vede ad esempio nella foto a destra, siamo arrivati a scavare circa un metro e trenta, lo strato nero in superficie è tutto molto ricco in sostanza organica e vedremo più avanti che questa sostanza organica è molto vecchia. Questo, l'età della sostanza organica vecchia, si vede sui terrazzamenti. Questi terrazzamenti hanno ormai chiaramente qualche secolo. il suolo che è stato trasportato all'interno per riempirli chiaramente è rimescolato ed è mantenuta la parte nera. Si vede nella foto sotto, si vedono delle chiazze nere scure e delle chiazze invece più, sempre scure ma un po' più chiare. Le parti nere scure sono praticamente tutta quella parte che è sotto i 30 centimetri nel suolo a destra e che nel giro di queste centinaia d'anni, da quanto ci sono questi terrazzamenti, non è cambiata. Quindi è una sostanza organica vecchia, molto stabile, sostanza organica che quindi funge da una fonte di carbonio tolta dall'atmosfera in periodi molto lunghi. Questo è un esempio di scheda, di descrizione dei profili, qui si vede appunto cosa viene osservato in un profilo pedologico. In questo caso, in questo circa un metro e dieci, un metro e venti, abbiamo riconosciuto circa cinque, sei orizzonti minerali con sopra la sostanza organica più recente con ognuna varie caratteristiche. La parte più interessante qui è chiaramente quella scura lì sotto. Qui alcuni parametri chimici. Questo qui è un suolo particolarmente ben sviluppato, ma è la tipologia di suolo più comune in tutto il parco della Val Grande. È un tipo di suolo molto comune, diciamo, dal biellese fino alla Valtellina. Sono zone non molto fredde in inverno, con precipitazioni molto abbondanti. Questo è il tipo di suolo che si forma. Si vede il pH molto basso, carbonio organico su spessori molto elevati, valori molto alti, quindi appunto uno stock di carbonio tolto dall'atmosfera in tempi lunghi molto alto. Il numero a destra è quanto carbonio è contenuto nel suolo in un metro quadro. C'è un metro quadro di superficie, al di sotto c'è il suolo, sono 27 chili di carbonio contenuto ogni metro quadro. Fondamentalmente più di una persona. La persona, mettiamo 70 chili, la percentuale di acqua è altissima, poi ci sono tutti gli altri elementi, il carbonio di sicuro non raggiunge 27 chili in una persona, saranno 5, 6, 7 chili. È come se praticamente in un metro quadro di suolo ci fossero 3, 4 persone dentro. Poi, un altro parametro, no, prima questi suoli appunto che dicevo che sono sviluppati in tutte le Alpi del Sud, diciamo dal Biellese fino alla Valtellina, sono anche comuni nella zona tropicale. Questo è un profilo ad esempio che ho fatto in Uganda e si vede quello strato nero sotto la superficie che è assolutamente uguale a quello che si trova spesso qui nei suoli della Val Grande. Altro parametro interessante che serve per capire il valore di questi suoli è la densità apparente. Quel numero di densità apparente, grammi centimetro cubo, si vede che quasi tutto è sotto 1. L'acqua ha 1 come valore. Uno potrebbe quindi immaginare che questo suolo gallegge. In realtà no, perché la sostanza che compone il suolo in realtà è più pesante dell'acqua. Ma questo vuol dire che c'è una porosità molto elevata. La porosità molto elevata può essere calcolata basandosi appunto su questo ed è circa l'81%. Vuol dire che nel suolo circa l'81% del volume è occupato da vuoti. sappiamo che è una zona dove piove molto. Ad esempio, quando abbiamo fatto questo profilo, pochi giorni prima c'era stato l'evento dell'ottobre 2020 in cui aveva piovuto circa 600 mm di pioggia in poche ore. Il suolo, fondamentalmente, al suolo non è successo niente. Questo perché tutta questa grandissima porosità è in grado di assorbire l'acqua in modo molto rapido, molto efficiente e quindi, tendenzialmente, questi suoli sono estremamente resistenti nei confronti dei fenomeni estremi. Questa è una cosa molto importante e c'è in Val Grande, c'è in altre zone appunto come dicevo, ma non c'è dappertutto. In zone dove i climi sono più asciutti, tutta questa grande sostanza organica che crea questa porosità non c'è e quindi i suoli sono molto più vulnerabili. In Val Grande i suoli sono particolarmente ricchi in sostanze organiche e particolarmente resistenti all'erosione. Altri esempi, zone un po' meno stabili dal punto di vista morfologico, un po' più ripide. Si vede che lo stock di carbonio diminuisce un po', ma comunque i suoli sono sempre molto scuri, con spessori elevati, eccetera. Anche salendo di quota, i valori qui aumentano ancora di carbonio organico, però fondamentalmente i suoli sono tutti molto simili, anche se i substrati effettivamente poi cambiano. Qui questi suoli sono stati fatti lungo tutto il transetto della Val Pogallo, quindi si attraversano varie litologie, come era stato fatto vedere prima. L'unica eccezione è il suolo di Pogallo proprio, nel prato. Questi suoli sono stati intensamente utilizzati storicamente, probabilmente coltivati, arati, e questi suoli hanno perso la sostanza organica. Ce n'è comunque abbastanza, ma si vede dal colore, il colore è molto più chiaro, e nonostante la superficie pianeggiante, i valori sono molto più bassi che negli altri suoli. Quindi ci sono stati fenomeni erosivi, associati probabilmente appunto alle arature profonde, e manca fondamentalmente tutto quel pezzo sopra lì. I primi 80 centimetri mancano. Andando invece sulla parte più esterna, quindi sulla sequenza tra colloro e la colma di Premosello, i suoli sono tutti un po' più giovani, un po' più sottili, e a volte hanno anche un po' meno sostanza organica, appunto perché hanno avuto meno tempo di formarsi. Il versante è anche molto più ripido, quindi i suoli sono un po' più instabili. Si vede come in vari ambienti si formano suoli poi un pochettino diversi, comunque. Riassumendo, i suoli della Val Grande comunque sono tutti ricchi in carbonio, sono acidi, sono porosi, sono poco erodibili. A volte l'uso intenso nel passato li ha impoveriti e resi più vulnerabili. Perché questo fatto? Salterà fuori. Comunque qui ho fatto poi un'elaborazione base, statistica, per vedere l'effetto dei vari tipi di substrato e della vegetazione. Per esempio sul carbon stock c'è un effetto piuttosto scarso sia del substrato che della vegetazione. Il fattore principale è uno, che le precipitazioni molto elevate causano una lisciviazione che porta poi all'omogeneizzazione dei caratteri principali. Ad esempio, qui ci sono rocce, come si diceva prima, ultrabasiche, che dovrebbero dare origine a suoli basici, come la peridotite appunto, o le anfiboliti. In realtà, i suoli sono tutti con pH molto bassi. I suoli su peridotite hanno anche degli altri parametri chimici particolari, che però vengono tutti omogeneizzati dal fatto che piove appunto molto e quindi tutte le sostanze vengono dilavate. Questo è un altro schema che si usa adesso per valutare i servizi ecosistemici forniti dai vari suoli. In genere, in Val Grande, i suoli appunto hanno un'enorme ritenzione idrica, quindi hanno un forte controllo delle erosioni superficiali, supportano una biomassa forestale importante, controlla il ciclo del carbonio, perché stoccano un'enorme quantità di carbonio, filtrano molto bene l'acqua, però, ad esempio, sono poveri nutrienti e così via. Quindi, in pratica, questo qui è un riassunto del valore dei suoli. Biomassa agricola, ovviamente, non può essere troppo elevata, magari appunto il castagneto può essere supportato, ma altri usi agricoli, dal punto di vista naturale, non potrebbero produrre tanto, perché questi suoli appunto sono acidissimi e poveri. Chiaramente uno poi potrebbe aggiungere sostanze per aumentare la produttività agricola, però, dal punto di vista naturale, questi suoli supportano, hanno pochi nutrienti, e quindi una biomassa agricola possibile piuttosto scarsa. Questa qui è una vista dalla cima di campo, che secondo me è... Cima di sasso, cima di sasso. Cima di sasso. Applausi.